I combustibili fossili derivano dalla trasformazione di sostanze organiche avvenuta in milioni di anni. Il carbone, il petrolio e il gas naturale sono combustibili fossili. Noi li utilizziamo per scadare le case, per far muovere i mezzi di trasporto, per far funzionare gli impianti industriali e li sto usando proprio adesso per il mio barbecue. Il gas naturale e il petrolio hanno la stessa origine, derivano dalla decomposizione di organismi vegetali e animali morti milioni di anni fa. Quando questi organismi morivano, si mischiavano con la sabbia e la melma dei fondali marini. Con il passare del tempo, questi strati di materiale organico sono stati ricoperti da strati di sabbia e roccia. Il calore e la pressione hanno lavorato su questo materiale organico per milioni di anni, trasformandolo in giacimenti di petrolio e di gas naturale. Da questo deriva il nome combustibili fossili. Si chiamano così perché sono stati originati da organismi preistorici. Per trovare il petrolio bisogna scavare in profondità sotto la crosta terrestre. Le trivelle creano polsi profondi sia sulla terraferma che in mare. Il petrolio e il gas naturale sono risorse di grande valore. La benzina per le auto deriva dalla raffinazione del petrolio. Il gas viene utilizzato per i fornelli e per il riscaldamento. Gas naturale e petrolio vengono entrambi utilizzati nelle centrali per produrre energia elettrica. Un altro tipo di combustibile fossile è il carbone. Anche il carbone ha un'origine organica. Piante preistoriche morirono e affondarono in paludi e acquitrini. Col passare del tempo furono coperte da strati di roccia e di terra. La pressione e il calore, esercitati da questi pesanti strati, hanno gradualmente eliminato l'umidità e trasformato il materiale organico in materiale solido. Il carbone viene estratto scavando miniere se avvicinano superficie che in profondità. Il carbone fu usato moltissimo durante la rivoluzione industriale a partire dal 1700 ed è utilizzato ancora oggi. I combustibili fossili sono ottime fonti di energia. Una tannica di benzina permette a un'auto di percorrere centinaia di chilometri. Sono anche abbastanza convenienti perché non richiedono molte trasformazioni per essere utilizzati. Tuttavia, bruciare combustibili fossili produce materiali di scarto che inquietano l'aria e l'ambiente. Te ne puoi rendere facilmente conto se apri il finestrino dell'auto mentre viaggi in mezzo al traffico. Bruciare combustibili fossili libera anche la dendride carbonica, che è una delle principali cause del cambiamento climatico. Stiamo già subendo gli effetti del cambiamento climatico, fenomeni estremi come tempeste uragani, lunghi periodi di siccità che causano incendi frequenti, scioglimento dei ghiacci e aumento del livello degli oceani, con la scomparsa di importanti habitat. Anche se non avessero questo effetto dannoso sull'ambiente, i combustibili fossili sono una risorsa non rinnovabile. Una volta usati, non possono essere rimpiazzati, perché li usiamo ad un ritmo estremamente più veloce di quello che serve alla terra per riformarli. Alla velocità con cui li stiamo usando, probabilmente li esauriremo in meno di 300 anni.